Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop Gamer PC Computer. Gamer PC garantisce una ottima esperienza di gioco, attraverso nuovissimo Intel Core i7-3770 processore con 4 ottobre 3.40GHZ applicazioni multi 3 ad 16 Gran Bretagna DDR3333 MHz memoria tempo di accesso e di apertura di programmi rapido 1000 Gran Bretagna SATA terzo hard disk impressionante performance grafica Nvidia GeForce GTX 660 con due Gran Bretagna DDR5 memoria, per una esperienza di gioco coinvolgente 22x DVD Brenner per apprezzarne la potenza Salman Z9 alloggio con Belex Tune. Alta efficienza energetica Gamer PC con nuovissimo Intel Core i7-3770 processore con 4 ottobre 34.0MHz Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.